Ciao a tutte ragazze, ben ritrovati nel mio canale, oggi ho deciso di fare questo video ASMR, finalmente me l'avete richiesto in tantissime, tantissime, mi avete richiesto anche su Instagram un show in tell e siccome ho un bel po' di cose da farvi vedere, ne ho approfittato e ho deciso appunto di fare questo video in modo tale che vi faccio vedere sia i nuovi acquisti che comunque vi faccio anche rilassare ho deciso anche di fare questo video praticamente sia in versione ASMR sia in versione normale per le persone che comunque non amano i video ASMR come sapete comunque il mio canale si divide in due persone, cioè due insomma due parti di persone che mi seguono perché c'è una parte che ho constatato che è proprio amante di video ASMR che guarda praticamente solo quelli e invece c'è un'altra parte che non le piace, no non le piace, sono questi tipi di video ASMR e quindi che guardano magari più video haul degli acquisti e tutto e quindi praticamente ho deciso di farvi vedere questi acquisti sia in versione ASMR sia in versione normale però per farvi capire adesso volevo un ottimo diminuire un po' lo zoom così riesce a captarmi di più allora mi trovate un po' stanca diciamo con le occhiaie semplicemente perché sono un po' stanca e siamo comunque di sera infatti penso che dopo che farò questo video rilassante andrò a letto a prendermi un meritato riposo allora volevo anche farvi vedere le mie occhie che adoro cioè sì, sono bellissime io a settembre cioè solitamente quando passa l'estate non sono molto felice però per quanto riguarda le unghie cioè per me settembre vuol dire avere questo colore di occhi mi ricorda molto comunque non lo so, l'autunno le foglie Halloween in generale quindi mi piace molto questo colore è proprio uno dei miei colori preferiti allora iniziamo subito con gli acquisti allora la prima cosa che vi faccio vedere se è un prodotto per i capelli vi dico già che sono quasi tutti acquisti di Harry Potter tutti presi da Primark perché me lo chiede se Primark non c'è qua purtroppo e purtroppo non fa neanche spedizione online per il momento però vi dico quello che ho qua davanti e i relativi prezzi allora questo è il primissimo prodotto che vi faccio vedere è un set di tre elastici per i capelli sono fatti così questo ha proprio i tipici colori del Kifunoro e il set è questo è venuto tre euro è venuto tre euro Grazie. Spero che vi piaccia questo suono qua, a me piace molto. Poi andiamo avanti, è il secondo prodotto che vi faccio vedere. E' sempre una cosa per i capelli, è sempre di Harry Potter ed è un cerchietto, ha il simbolo di Gripondoro, qua al lato, e questo è venuto 4 euro sempre. All'interno è tipo vellutato. Adesso passiamo al terzo prodotto, questa è in previsione dell'inverno ed è proprio una cuffietta. Per il freddo, per ripararsi, e questo è venuto a 5 euro, con sempre il simbolo di Gripondoro. E' morbida. E' veramente bella questa cuffietta, mi piace molto. Poi vi faccio vedere un'altra cosa che mi è piaciuta molto, è praticamente una cuffia per la doccia, all'interno, è tipo in spugna, e ha tutti questi cuoricini. E secondo me fa un sonno stupendo. E secondo me fa un sonno stupendo. Spero che anche a voi piaccia questo suono. Adesso vi faccio vedere invece delle cose che sono ineretti al make-up. Questa palettina, che è una delle imitazioni anche di Anastasia Preferi Hills. Questa palettina, che è un sonno stupendo. Questo è venuto a 6 euro, adesso vi faccio vedere anche i colori. Ah, ancora la plastichetta, ve l'ho riuscita a vederlo. Questo penso che lo testeremo in qualche video di trucco, per vedere appunto come sono questi colori. Così appunto li testiamo assieme, però sembrano molto belli. Grazie. 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 e scusatemi ancora per le occhiaie, le giuro, ma ho deciso di fare questo video praticamente all'ultimo momento e mi ero appena fatta la doccia e fatta la maschera per il viso e quindi giustamente sono un po' stanca e diciamo appunto senza trucco allora a questo proposito comunque vi parlo dell'ultimo prodotto che sono delle maschere guardate che carina queste maschere delle principesse sono un amore veramente carinissime eccole qua guardate queste sono costate 4 euro l'una questo mi fa il cocco, una la rosa e l'altra mi fa il cetriolo e sono troppo curiosa di provarle queste maschere poi magari le proviamo assieme se volete posso fare anche un video dove le provo perché sono troppo carine a me piacciono molto le maschere di Primark sono la maggior parte comunque delle maschere idratanti, esfolianti, antiossidanti, rinfrescanti qui praticamente si dice che devo aspettare i suoi 20 minuti in posa allora ragazzi questo era il mio ultimo prodotto spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi abbia rilassato spero di avervi fatto un po' di compagnia e soprattutto che siate belli, belli e rilassati fatemi sapere qual è stato l'acquisto che vi è piaciuto di più vi mando un bacione enorme ci vediamo al prossimo video se avete qualche video richiesta scrivetemelo tranquillamente qui nei commenti e attivate la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti sui miei nuovi video mi raccomando iscrivetevi intanto al canale alla prossima